il venditore ambulante che entra dentro un ospizio va a un tavolo che sono tutti anziani io ho questo prodotto da vendere è uno sciroppo miracoloso ecco vedete con 20 euro ne bevete due cucchiai al giorno nel giro di un mese tornate dei ragazzini giovanissimi proprio 20 euro allora uno dice vabbè senti a sto punto io ho 82 anni ci provo tanto che c'ho da perdere compa lo sciroppo comincia a usarlo dopo una settimana ripassa un'altra volta al venditore ambulante nell'ospizio a lei allora come sta andando come sta andando la cura benissimo guarda funziona tutti quanti a bocca aperta ma come funziona si si guarda sono proprio ringiovanito mi sento un ragazzino anzi un neonato allora uno gli fa ma come come fai a dire questo si mi sono cagato addosso tutti i giorni